Parti un mese dopo, stipai i miei 23 anni nella Spaulding e in due sacche da marinaio, mi feci portare da mamma ed Emmanuel a Charles de Gaulle, fu una decisione che non trovò ostacoli. Mamma disse che era una scelta giusta, interrogò le carte e chiamò la sua amica per comunicarle che avevo accettato il lavoro allo studio legale. Parlai io con uno dei soci, il signor Leoni, e capì che era una buona offerta, sei ore al giorno per 350.000 lire al mese, più dei piccoli incentivi. Avrei dato una mano su cause di estradizione degli extracomunitari. Lo strappo difficile avvenne con Idomago e con Marie. Al caffè organizzarono un brindisi con i clienti più affezionati a cui parteciparono i miei amici e non Lunette. Philippe si commosse. Io non versai una lacrima. Bevi cinque flutti di champagne e mi feci riaccompagnare d'Antoine. Il mio amico non l'aveva presa bene. Continuò a scusarsi per il comportamento della sorella, era una testa matta e pensava che avrei dovuto superare il trauma restando a Parigi. Gli dissi che non era un trauma e che non volevo più parlare di sua sorella. Ti conosco, Lib. Mona mia aveva ragione, ero frantumato. Mi schermai, non parlai con nessuno. Per un primo periodo mantenni le abitudini in modo impeccabile e vesti con una sciarpa rossa di papà che avevo trovato nella casa del Mare. Caddi in un unico episodio increscioso all'hotel di La Mognon. Frignai, guancia guancia con Marie. Esitavo, evitavo di farmi vedere per strada. Prendevo il metro al minimo indispensabile. All'università non andai più. Studiavo da casa e a mamma dissi che sarei tornato dall'Italia solo per gli esami. Partì davvero. Decollai da Charles de Gaulle in un pomeriggio terzo. E mentre l'aereo prendeva quota e il mio vicino di posto si aggrappava ai braccioli della poltrona accennando un broncio di spavento, io allungai il collo al finestrino e sbirciai la mia Parigi che dall'alto è d'argento. Adio. E la disprezzai con tutto me stesso per la sua bellezza folgorante. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo deciso di iniziare così, per ogni parola poteva essere travisata, poteva risultare retorica. Abbiamo preferito far parlare il libro e mettere la bellezza di fronte all'orrore e lasciare che le parole della letteratura ci suggerissero qualche riflessione, qualsiasi essa sia, intanto va bene in questo momento. Io sono molto contento di poter presentare insieme questi due romanzi perché Marco Peano è al suo esordio, invece Marco Missiroli è ormai, ha cavalto ormai una carriera brillante, so che tu non vuoi che lo dica, perché ti intimidisci. Cosa che avete notato probabilmente leggendo il libro. Questa timidezza forse è anche una delle caratteristiche principali di entrambi i romanzi. Abbiamo dei personaggi che hanno il coraggio della loro fragilità. Come abbiamo detto ieri, il festival ha una serie di temi che tentiamo di affrontare. Il tema di oggi, visto attraverso due romanzi contemporanei molto diversi, in realtà accomunati forse dall'opposizione con cui trattano questi temi, è sicuramente la fine del candore. Questa fine del candore viene affrontata in una maniera completamente diversa da un certo punto di vista. In realtà poi sul finale abbiamo delle confluenze. Sembra quasi che il romanzo di Marco finisca laddove inizia quello di Marco Peano. Sarà difficile, cerchiamo di capire che lui è Marco e lui è Marco, quindi abbiamo dei problemi. Se io dico Marco è Marco, guardate la mia faccia da che parte va, così almeno capiamo di chi stiamo parlando. Altrimenti tutte le volte, come a scuola, io devo ripetere Marco Peano, Marco Missiroli diventa più complesso. Io volevo iniziare da Marco Peano per un diritto di esordio, mi sembra anche corretto nei suoi confronti, è anche giusto, no scherzo. In realtà Marco è un esordio che sembra un romanzo ormai dell'affermazione. Ha fatto 90 presentazioni quest'anno, il libro ha avuto un riscontro enorme, e apparentemente quel riscontro forse potrebbe sembrare che è dovuto al fatto che è un libro che tratta dei temi universali. Tratta alcuni temi che ci toccano direttamente. Chiunque di noi è toccato da determinate cose che ci accomunano e rendono universale il tema che affronta Marco Peano. La scomparsa di una persona cara già è un tema che sentiamo vicino. La scomparsa della madre, come dice anche Marco nel libro, ci rende orfani una volta sola. Probabilmente perché quella forma di diventare orfani è una forma definitiva. Ci sono, appunto, e quella è una cosa che vorrei analizzare all'interno di questo incontro, soprattutto delle strutture all'interno del romanzo, che ricordano il tema. Il tema, per chi non avesse letto il libro, è la storia di un ragazzo, Mattia, che cerca di affrontare la malattia della madre, cercando di reagire come può a quella che per lui è una novità. Una novità tragica, ma in ogni caso è una novità. Immaginate quindi un ragazzo di 26 anni che si trova improvvisamente con una madre che aveva già subito le conseguenze di un cancro, che si ritrova di nuovo al cospetto di questo enorme mostro. Uso la parola volontariamente mostro per un motivo. La struttura del romanzo e moltissimi passaggi ricordano moltissimo la struttura dei romanzi di genere, i romanzi horror. È proprio una delle caratteristiche principali e io partirei proprio dall'incipit. L'incipit del romanzo è La madre sarebbe tornata. Questo è riferito a un episodio specifico, nel senso che la madre ritorna a casa dopo i trattamenti e si decide di seguire il trattamento a casa da quel momento. In realtà questa madre sarebbe tornata e diventa un leitmotiv per tutto il romanzo, perché la madre è come all'inizio una figura fisica, poi diventa un fantasma, poi diventa una persistenza, fino a trasformarsi in un'ossessione. La prima domanda che ti voglio fare infatti è proprio riferita a questo. Quanto è stato importante, dal mio punto di vista è un continuo ribadire questo, segnalare il fatto che comunque si trattava una storia che volevi che fosse di fiction, cioè quanto volevi tenere distante il fatto che le persone potessero pensare a una mimesi e quanto poi ti sei accorto nel corso delle presentazioni, ormai possiamo fare quasi un resoconto, quanto questo invece fosse impossibile. Buonasera, eccoci. Tanto grazie per essere qua ed è un grazie molto sentito perché questo palazzo ha una storia e trovarci, grazie all'altra metà del libro, grazie a Michele Vaccare, io e l'altro Marco qui a parlare con voi è un privilegio, quindi vi ringrazio davvero. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. le forme di un'ossessione, perché Mattia in quei dieci anni in cui ha assistito la madre, che sono dieci anni che ha avuto una persona malata in casa, lo sa, non soltanto disperati o disperanti, ma anche pieni di felicità per cose microscopiche, pieni di vita, pieni di voglia di rivalsa, pieni di momenti di esaltazione, seguiti da momenti di profondissimo sconforto, in quei dieci anni è cresciuto perché la malattia della madre è arrivata quando lui aveva 17 anni e per i dieci anni successivi, fino ai 27, lo accompagnerà in maniera profonda, quindi vuol dire che in una fetta dell'esistenza così fondamentale come quella della crescita, della post-adolescenza, della presa di coscienza di sé e del mondo, che cosa si sperimenta a 17 anni, si sperimenta le prove della vita adulta, si cerca di capire quale sarà il nostro futuro, quali sono le nostre passioni, come portare avanti un percorso di vita che sembra ancora tutto da costruire, tutto nebuloso. E quando il percorso di vita implica una presenza in più in una famiglia e la presenza in più è la malattia, tutto si complica perché è necessario diventare adulti molto più in fretta. Il mio personaggio però rifiuta il diventare adulti perché diventare adulti significa sapere che quella vita, che è la vita della madre di Mattia, ha un termine e quindi rinunciare alla persona che si ama di più e dalla quale si è amata di più. Tu dici anche con chiarezza questa cosa, una frase anche molto forte, nel libro, a un certo punto, a due terzi mi sembra, più o meno nel libro, tu dici che non è vera questa cosa, che di fronte al dolore si cresce, cioè non è una cosa che ci hanno abituato, in cui automaticamente siamo stati cresciuti, forse anche, come dire, un modo per cui intere generazioni sono state cresciute di fronte a questo, no? Il fatto che il dolore ci dovesse crescere, quasi come se fosse un obbligo. Sì, in realtà mi fa piacere essere su questo palco con Marco Missiroli, che non soltanto è un amico, è un autore che stimo, ma perché adesso è stato letto una pagina dal suo romanzo, all'interno del suo libro, ad esempio, viene citato molte volte Camus, e quell'incipit sulla mamma morta oggi, che insieme a quello di Kafka e dello scarafaggio, è uno degli incipit, secondo me, più folgoranti della storia della letteratura, lo dice lungo anche sul tipo di approccio che mi interessava affrontare. Per rispondere alla tua domanda precedente, non ero assolutamente interessato, io per primo, a scrivere un diario personale, o a scrivere uno sfogo, o a aprire la pagina dando una vomitata d'alfabeto in faccia alle persone, ma ero interessato a dire, ok, mi è successa questa cosa, io ho a disposizione e so di avere le parole, perché sono al mio lavoro, perché le frequento ogni giorno per motivi professionali, provo a incanalare le due cose e farle diventare una cosa sola, prendo le parole, prendo il mio dolore, le mescolo insieme e cerco di usare un'esperienza privata per raccontare qualcosa di universale. Senza dubbio, infatti, secondo me, l'elemento fondante del fatto che racconta, il fatto che tu volessi, in qualche modo, fare una storia di fiction è l'utilizzo della terza persona che crea, inevitabilmente, quella distanza che ci permette di raccontare le cose anche più gravi, con una partecipazione che rimane dentro di noi, quindi poi il giudizio su quello che stiamo leggendo è assolutamente lasciato a noi lettori, non c'è intromissione da parte dello scrittore con le sue emozioni. Al contrario, nel libro di Marco Missiroli c'è una storia che è molto di fiction, ci sono poi delle cose che diremo che riguardano te, però diciamo una storia fondamentalmente di fiction, dove si racconta però un modo diverso di approcciare il dolore. Bisogna capire se nel libro di Marco il dolore che c'è è chiaro quale sia e non c'è bisogno neanche di ribadirlo, invece nel libro di Missiroli c'è questo filo rosso di un dolore continuo che si ripete, anzi proprio il romanzo è costruito, questa è l'impressione che ho avuto io, come se continuamente lui arrivasse a un attimo di superamento di questo dolore personale, che secondo me è la ricerca poi di quella libertà e emancipazione, io direi in generale, sia di adolescente, sia di maschio, sia soprattutto di emancipazione da una figura di madre, anche in questo caso, che comunque è molto presente. C'è un punto nel libro esattamente in cui Marco Missiroli dice il mio modo, la parafrasa non cito testualmente, non sarò in grado, dice io per superare questo dolore ho affrontato dei viaggi, ho conosciuto donne, ho letto moltissimi libri, di questo poi ne voglio parlare perché secondo me c'è un richiamo forte a un tipo di letteratura e non a un'altra erotica del novecento italiana e quindi è come se tu trovassi continuamente un modo perché il personaggio sembra quasi che abbia una fame di vita, cioè a differenza di Mattia che si rinchiude in se stesso non può quasi scappare da quel paese, come se fosse un paese maledetto da cui non riesce a fuggire, al contrario, e questo qui è uno dei primi romanzi in cui lo fai, in cui ci sono le città, perché di solito tu sei uno scrittore molto di distanze, di luoghi chiusi, luoghi desolati. Sì beh, Mattia è davanti all'animale morente per eccellenza, la madre, il mio è davanti all'animale vivente per eccellenza che la crescita. Queste due divergenze sono fondamentali per creare quel principio di Archimede che Ilman diceva essere il dolore, ogni volta che noi affrontiamo un tipo di dolore di un certo peso spostiamo l'energia dello stesso peso dall'altra parte che va recuperata, la resilienza. Mattia di Peano è un resiliente su se stesso, cerca, escava e consuma le proprie energie per cercare quella che è la sopravvivenza della felicità. Io purtroppo ho la felicità davanti in questo caso, il purtroppo è perché la ricerca di una felicità davanti a niente è una grande condanna, è una missione in un certo modo. Questo qui si chiama pure Libero Marcella, ha un nome talmente sfigato che uno che si chiama Libero deve per forza essere imprigionato, è un po' una nemesi di se stesso. E a quel punto ho detto, gli do la massima caratura di un diamante con un nome di liberazione e lo metto in una condizione di precarietà emotiva, quello che ero io. Vergine a vent'anni a rimini, che equivale a dire essere in guerra, significa in parte ricostruire quella che è la riparazione femminile attraverso le donne che non hai incontrato. Tutte quelle che ti rifiutano spostano il grado di solitudine di un principio di Archimede che diventa dolore. A quel punto hai due scelte, misoginia e aggressività, rot, o ricostruzione e riparazione del dolore, quindi introiezione e introspezione del femminile. Si parla di uomini femminili in questo caso. Infatti la cosa che secondo me è particolare di questo romanzo, di solito noi siamo abituati al fatto che le storie procedono per conflitto. Al contrario questo conflitto non è mai portato fuori, è sempre un conflitto interiore, c'è quasi proprio una... ecco, in questo caso è come se lui non riuscisse mai a sverginarsi veramente da questa possibilità di urlare la propria dolore. C'è anche nei momenti peggiori, anche in questo caso la madre soffrirà. Lui non ha mai un momento vero di rabbia ed è strano per un personaggio di questo tipo che attraversa tutta quella serie di esperienze. È quasi un dolore piccolo borghese, fastidioso, tenuto, igienico sotto il cashmere. E questa è una cosa che mi ha fatto talmente arrabbiare, il primo pensiero. Poi ho pensato, io ero così, vengo da una famiglia proletaria, non vengo da una famiglia piccolo borghese. Poi piano piano con la mobilità sociale anche il dolore è diventato edulcorato. Ed è una cosa molto bella mettere il guinzaglio dorato al dolore nero, perché crea uno simolo. E questa è la letteratura in parte. A un certo punto ho pensato, Mattia di Marco è un personaggio che ha già la ferita più grande all'inizio del libro. Il mio ha una ferita minore che può essere aggravata o riparata. Il sesso è un aggravante, non è un riparante. E in questo caso qua è ancora doppiamente aggravante perché non è raggiungibile. È un vergine eterno il mio personaggio. Ne approfitto perché ci sei la sua volta, abbiamo fatto una presentazione con Marco, non mi è venuto in mente di chiederti una cosa. Secondo me, e poi mi voglio collegare a questo con Marco, perché c'è una similitudine sulle fonti di ispirazione che citate. Secondo me c'è una differenza fondamentale. Tutti e due i romanzi si citano opere letterarie e opere cinematografiche, diciamo così in maniera generica. Quello che trovate però, e questa è la mia impressione, poi adesso mi dirai se sbaglio, è che i romanzi che tu citi, oltre che stilisticamente influenti, secondo me in parte, sono romanzi però più essenziali per una crescita che forse i tuoi, tra virgolette, chiamiamoli romanzi che tu metteresti in cima al mondo della letteratura. Cioè non sono i romanzi forse proprio migliori in assoluto per qualità tecnica, lingua, però sono essenziali per la formazione di una persona. La tua domanda è quanti cliché, la tua domanda nascosta è quanti cliché ho usato in questo romanzo? Sì ma ti voglio bene, non posso farlo. La risposta è l'intelligenza dell'amicizia e quella di svelare ogni tanto. Io credo che la risposta sia ogni cliché usato, tu scrittore deve avere i coglioni di ribaltarlo secondo l'introspezione del protagonista. Se tu non usi un cliché perché hai paura che gli altri dicano che sei un cliché, hai già fallito. E quindi i romanzi semplici di decrescita diventano romanzi di decrescita. Questo è subito imminente. Per cui ho scelto dei cliché di liberazione perché sono stati anche i miei. La banalità, diceva Bresset, la mostra fotografica che c'è sotto, è lo svelamento dell'unico poi messo nell'abitudine. Però in mezzo ce l'hai messa delle opere che di solito non vengono citate. Un amore di Dino Buzzati non è un romanzo al caso. Perché anche io ho le mie bosche bianche che mi hanno fatto crescere. Un amore di Dino Buzzati perché secondo me è quella fan nomorosa e è cruciale soprattutto mentre morivo di Faulkner. Un libro polifonico, postmoderno. Hanno detto che David Foster Wallace ha reinventato il moderno. Mi viene da ridere, leggete Faulkner mentre morivo. È venuto in mente anche che l'ingenuità di Libero mi ricordava un po' la ginia di Pavese. È così. Della bella estate. È così, perché tu leggi molto, sei un ragazzo estremamente arguto, quindi fare presentazioni con te è come andare in psicoterapia. E questo mi porta... Infatti io ho già paura adesso, sono per scappare, ve lo dico. Infatti se c'è qualche strizza... Perché peraltro per te mi sono preparato, per Pean è andata automatica a sapere cosa citava. Bevo dell'acqua per dissimulare. Se c'è qualche strizza cervelli in sala poi se mi lascia il bigliettino insomma va bene. Quello per risponderti, il cliché è fondamentale per la crescita del personaggio. Se il personaggio annoia hai fallito con i cliché. Se il personaggio ti tiene attaccato alla pagina non hai fallito, il mio non annoia. Il tuo non ha fallito anche, perché adesso stavo pensando a questa cosa qua in fondo. Tutti e due i romanzi possono essere definiti i nostri come romanzi di formazione e di crescita, però che cosa succede? Succede che nel mio c'è un personaggio che di fronte a un dolore enorme, come dici tu la ferita ce l'ha già all'inizio, si ostina a rimanere uguale a se stesso sempre. nel tuo, la sua ferita arriverà dopo, semmai in quel momento c'è un'apertura, c'è la scoperta del sesso, continua a cambiare, cioè come se ogni pagina cambiasse, non soltanto quando cambia città, quando cambia stato, sono vergine, non sono più vergine, sono ancora meno vergine perché ho incontrato una donna espertissima, ma è in evoluzione continua fino al finale che non rivediamo, in cui la situazione si ribalta, lui torna profondamente più se stesso. e quindi credo che la cosa che diceva Michele, a parte che mentre morivo la rivendico anch'io subito, perché non posso non citare Faulkner e la morte della madre, è subito un'esperienza che il lettore, in entrambi i nostri romanzi, si trova davanti con violenza. Ma anche tu scrittore, anche il tuo incipit autoriale è totalmente devastante. Provate voi a scrivere un romanzo con l'inizio, la madre sarebbe tornata, cioè vuol dire che il fardello arriva. Quindi la mia domanda che ti faccio a bruciapelo è come hai fatto? Perché abbiamo già scuso Michele della conversazione? Io vi lascio parlare, io vi lascio parlare. Perché è questo? Lui non esiste più. No, no, vai, vai, vai. C'è una sfida tra di voi a me interessa, io me la guardo, me la godo, intanto ve la godete anche voi. Tanto solo sai che poi la domanda la chiedo a te, perché iniziare direttamente coi pompini... Però è la stessa cosa, in realtà è la stessa cosa, è la stessa cosa, cioè non mi puoi venire a dire che ero setanato, sono la stessa cosa, no? Quindi è lo stesso tipo di inizio, infatti una domanda che io mi ero preparato era questo, cioè voi avete incominciato in quel modo lì subito a definire il territorio, cioè non avete neanche per un attimo... Ma sai perché? Perché non volevamo prendere in giro il lettore, secondo me è veramente questa la risposta. La risposta è senti, tu hai un sacco di tempo davanti a te, la tua vita dura quel tote di anni, i libri che leggerai sono questi. Quante volte hai sentito parlare di cancro? Io ti dico come te lo racconto in un'altra maniera. Quante volte hai sentito parlare anche di sesso, di crescita, di amore? Assolutamente, sì, allo stesso modo. Ho detto senti, io parlo di questa cosa qua, non ti interessa chiudi il libro pagina 2, ti interessa vai avanti, ti annoia pagina 50, chiudi il libro pagina 50. Cioè era giocare con... Questo non l'hai inventato Pea, non l'hai inventato King. No, ma ci mancherebbe, però era giocare con le carte più scoperte possibili, io lo so che tu vuoi portarmi a parlare di letteratura horror... No, perché voglio capire perché l'hai usata. Cioè nel senso che io ho capito una cosa molto bella. Invece che fare un romanzo pietista, Peano ha detto, ha usato il gemello malvagio del pietismo, che è il cinismo. E questa qui è una cosa che è una sfida, perché comunque ogni minuto puoi cadere, potresti cadere continuamente nel cattivo gusto, oppure potresti continuamente essere accusato di sfruttare un dolore per poter portare la parola e il mondo della letteratura da un'altra parte. Invece questa qui, secondo me, la caratteristica è il fatto che Marco ha un controllo costante. Infatti tutto il romanzo non è un flusso di coscienza, sono pezzi che quando stanno per arrivare a quel punto di rottura in cui sarebbe troppo, sarebbe troppo l'ossessione, sarebbe troppo la morbosità, sarebbe troppo forse anche riferimento, io ho sentito che tu li abbia chiusi. Perché io cercavo di evitare la pornografia, esattamente come Marco ha cercato di evitare la pornografia. C'è una pornografia del dolore o dell'eros molto precisa che costringe l'autore a scrivere quasi in automatico portando al cliché, che diceva prima Marco, e portando a due possibili strade. Se legge un romanzo pornografico, nel senso più letterale del termine, e vuoi indurre un desiderio, il desiderio lo induce Marco, la pornografia induce l'eccitazione, che è un'altra cosa rispetto al desiderio, se legge un romanzo, come nel caso del mio libro, in cui si parla di morte, si parla di scomparsa, è pornografico se tu induci le lacrime, se induci il dolore a tutti i costi. A me questa cosa non interessava assolutamente. C'è un autore, che è anche torinese, che ha scritto un libro su una madre morta, e che non citeremo, che secondo me ha scritto un romanzo pornografico. pornografico, sì, gramellini, sì. No, così almeno diciamo i nomi. Non si offende sicuramente, con tutti i soldi che ha non si offenderà. No, no, ma ci mancherebbe. A me quella cosa lì non interessava. Io ho letto questo libro quando avevo ormai finito di scrivere il mio. Ci ho messo un po' di tempo a scrivere il mio romanzo, ci ho messo sette anni, perché questa cosa da affrontare era tosta. Per rispondere alla domanda di Marco... A proposito, scusa, nei sette anni questa costruzione, perdonami se lo dico, però secondo me è così, questa costruzione è metastasi che procedono. Cioè, tu non hai costruito un romanzo in cui hai detto, vabbè, io incomincio a scrivere, tu hai fatto proprio di piccoli pezzi, ed è una cosa molto precisa. Non ho calcolato quando sono lunghi tutti questi pezzi, però sono molto simili per ampiezza. Non ci sono mai dei momenti di scrittura esagerata, anche laddove, come dire, la situazione lo permetterebbe. Cioè, nel momento proprio di stacco definitivo, lì avresti potuto lasciarti andare, e lì di nuovo ritorni con un controllo. Cioè, il personaggio anche lì, come nel caso di Marco, non è mai un personaggio in cui senti la rabbia, la senti tantissimo, ma non la vedi mai, diciamo, esibita, in nessun modo. Lui stesso non reagisce alla morte come io pensavo, come ti ho detto ieri, che io pensavo che alla fine facesse il finale dell'inquilino del terzo piano. Cioè, lui vestito alla donna che si suicida dalla finestra. Perché ho detto, un personaggio, se voi leggete il romanzo, ve ne accorgete, che non riesce a sopportare in nessun modo la rassegnazione, e vive dentro ai fetici di questa madre, a un certo punto farà un gesto eclatante. Invece c'è un finale dolcissimo. Perché? Allora, il libro è diviso in tre parti. C'è, viene raccontato l'anno prima, l'ultimo anno di vita della madre, nella prima parte, poi c'è una sezione molto breve in cui viene raccontata la scomparsa, la morte della madre, e poi c'è una sezione finale in cui viene raccontato l'anno dopo. A me interessava soprattutto arrivare all'anno dopo, perché, se ci pensate, quello che accade quando una persona scompare, quando una persona muore, ha esattamente le stesse dinamiche della fine di un amore, della fine di una relazione. Quando due persone si lasciano, gli oggetti continuano a parlare per la persona che non c'è più, la bolletta, se abitavano insieme del telefono, continua ad arrivare all'altra persona e con quel nome che tu non vorresti leggere o che ti fa soffrire, vorresti leggere, vorresti che continuasse ad arrivarsi la bolletta con il nome di lei o di lui. E il tipo di mancanza, anche se la persona è viva, sta bene, è lontana da te, esiste ancora, è qualcosa che continua a parlarti, a visitarti. E quindi il tentativo era proprio quello di raccontare questa cosa qua. Qualche sera fa ho avuto il piacere di, e poi sembra che veramente, stando sulla parola pompini, come direbbe Tarantino, ci facciamo i pompini a vicenda, ma ho avuto il piacere di assistere alla presentazione che ha fatto Marco Missiroli a Torino del libro di Niccolò Amaniti L'ultimo anno. E c'è questa frase, io il libro non l'ho ancora letto, c'è questa frase che hanno scelto in casa editrice per la quarta, che è la vita non ci appartiene, ci attraversa. E che mi sembra perfetta per descrivere non soltanto i nostri due libri, non soltanto i tuoi libri, ma la letteratura. Cioè quel tentativo di attraversare un periodo della vita, di un'esistenza di un personaggio, e farlo diventare per quel momento tuo, e poi ci sarà il distacco, perché c'è sempre l'ultima pagina, c'è sempre un momento in cui le storie finiscono, che sia una storia d'amore, storia di morte, storia di vita. hanno tutte quante un orologino sopra che ticchetta, sapendo che prima o poi arriva al finale. Quindi mi sarebbe sembrato pornografico, sbagliato, arrivare a un finale, tu sei molto, mi conosci troppo bene, perché nessuno aveva tirato fuori l'incumulo del terzo piano dal mio libro, ma c'è questa cosa qua, come c'è il cinema, perché mi interessava spostare, come Marco ho usato la storia della letteratura, io ho usato la storia del cinema, perché non possiamo rinunciare a delle forme di ragionamento che passano attraverso le storie scritte da altri, e anche il mio personaggio che lavora in una videoteca che nel 2005 in cui ha ammettato il romanzo è un posto destinato a scomparire, perché c'è blockbuster, perché c'è qualcos'altro, c'è la pirateria, e tutto quello che accade nel romanzo è una consunzione delle code. E tutto mi sta cronando addosso. Esattamente. Questa cosa qua serviva per dire ok, io continuo a ragionare per storie, ma nel mio caso parlavo di blockbuster, anche di film che sono stati la mia formazione ed è una formazione ingenua, perché non c'è soltanto dentro Kurosawa o non lo so. Però citare il filo spinato di Suspiria, vedi, non te lo ricordi Marco, il filo spinato di Suspiria vuol dire che ci giochi anche un po', cioè vuol dire che all'interno del fatto di mettere dei film che si riferiscono, in ogni caso viene fuori un amore per la letteratura e per il cinema, perché per me ad esempio Suspiria oppure Lovecraft, cioè per me non c'è una differenza in quel caso tra cinema e letteratura perché lì stiamo parlando di visionario e quindi è cinema assolutamente, così come quando parliamo di Polanski parliamo di letterario, quindi questa cosa è molto forte. Non so se ti sei accorto, adesso farò una cosa colta finalmente, cioè aspettavo questo momento da tutta la presentazione, c'è questo... Io ho paura, non so se ti sei accorto che nel romanzo di Marco c'è una frase di Whitman che lui cita secondo me in realtà omaggiando a te perché lui fa praticamente una sinossi perfetta del tuo... Sono usciti insieme i nostri e non ci parlavamo. Lui sai che è un po' psicologo quindi riesce anche ad essere paragnostico. Secondo me c'è questa frase che racconta perfettamente il tuo libro non mi devi dire che è così perché nel senso va bene fidati lui riesce ad essere paragnostico come tu riesci ad essere paraculo fidati che è esatto bravo esatto che è tra i rumori della folla ce ne stiamo noi due felici di essere insieme parlando poco forse nemmeno una parola ora secondo me ogni frase questa è una mia idea però ogni frase di questa di questa citazione di Whitman racconta un po' anche questa cosa che c'è nel romanzo cioè il fatto che in realtà non c'è mai un dialogo sai noi siamo abituati al fatto che il romanzo a un certo punto c'è il momento dello spiegone in cui il figlio parla con la madre gli rivela il suo dolore la madre dice no non ti preoccupare invece in realtà questa crisi non è una delle cose più belle che ha questo romanzo loro riparlano di cose comunissime fino ad arrivare al punto che lui le dà persino della stupida perché questa donna giustamente sta soffrendo un male atroce incurabile di cui forse non si rende neanche completamente conto della gravità perché poi c'è quel famoso discorso per cui i medici dicono delle cose a loro che loro hanno sempre questa difficoltà a dover dire al diretto interessato che è una cosa che abbiamo vissuto tutti credo a un certo punto c'è il momento che il medico ti dice guarda è così restano 10-12 mesi di vita buongiorno vaglielo a dire quindi c'è questa situazione atroce agghiacciante che abbiamo vissuto tutti nella nostra vita e c'è un momento in cui la madre se non sbaglio chiede quando è che tornerà a guidare e lui in quel momento lì dice una frase cinismo allucinante infatti mi ha stupito quello c'è il fatto che un personaggio ha questa adorazione verso la madre così estrema che è un'adorazione in alcuni momenti ci sono dei momenti perché il fatto di confermare le fidanzate dalla madre è una roba molto italiana se vuoi però anche quasi rituale che fa il libero quindi mi chiede lì uso un cinismo proprio assurdo non hai pensato che lì potessi sporcare tutta quella costruzione di un amore che avevi fatto perché è come se a un certo punto libero prendesse a pugno in faccia una fidanzata guarda no in realtà ho la presunzione di dire di no nel senso che io all'inizio ho fatto questo riferimento breve al fatto che mi interessava chiamare le cose con il proprio nome mi interessava chiamare il cancro con la parola cancro non il brutto male il male che non perdona perché se utilizziamo dei giuri di parole per dire una cosa così importante rischiamo di distrarci nel momento in cui questa cosa così importante riguarda o noi o una persona vicino a noi e quindi guardare negli occhi la medusa è fondamentale così come tutta la terminologia bellica la lotta contro i tumori distruggere le cellule malate annientare la guerra mette in campo una serie di soldatini e di carri armati che allontanano e fanno perdere lucidità su una cosa fondamentale come la vita no aspetta e e quindi nel momento in cui Mattia dice quella frase a sua madre in realtà sta dicendo sto dicendo io faccio dire al mio personaggio una cosa di cui mi sono assunto la responsabilità che è difficilissimo da accettare quante volte quando abbiamo perso una persona cara per malattia qualcuno è venuto a dirci ha smesso di soffrire prima Marco Missiroli parlava di cliché questo è un cliché della sofferenza il trovarsi a qualcuno che viene per farti le condoglianze ti piange addosso e finisci per farle tu a lui perché lo stai consolando è una cosa molto comune che abbiamo vissuto tutti quanti e quindi mi sono detto c'è anche il cinismo c'è anche la cattiveria perché nessuno dice mai ad esempio quanto si può dormire bene la notte successiva alla morte di una persona cara che è stata malata per tanto tempo perché non la mettiamo noi stessi perché ci vergogniamo e quando non soffriamo abbastanza diciamo perché non sto così male quanto dovrei stare male in realtà c'è da provare quel che c'è da provare non c'è un dolorometro che misura la sofferenza e non c'è neanche un'uguaglianza e e quindi invece tu come hai fatto a fare quello che hai fatto? vai passato va accanto allora come ho fatto a fare quello che ho fatto? ho perso un po' quelli che erano gli schemi miei Michele li conosce bene di costruzione rigida di spazzola durata sulle parole di scelti di temi scelti su una base non lo so di sfida e ho fatto quello che avevo voglia di fare parlare di un ragazzino che diventa a un certo punto adulto attraverso il sesso e la letteratura e l'ho fatto attraverso una lingua che doveva essere tirata come la sfoglia come fa mia madre la sfoglia c'è una regola in Romagna per fare le tagliatelle ma anche i cappelletti la sfoglia deve essere alzata deve essere messa contro la luce se vedi la lampadina definita è buona se vedi la lampadina sfocata non è buona se vedi non vedi la lampadina neanche la luce è fatta molto male se vedi la lampadina però hai pochi minuti prima che si rompa quello era il punto esatto della mia lingua non essere leziosa non essere troppo dura essere a delfiana al punto giusto e non troppo delfiana solo questa porcellana poteva tenere dentro una cosa incandescente allora gli ho chiesto alla fiorella tu come fai a fare la sfoglia ogni volta? niente conti i passaggi di Mattarello si dice Mattarello qui? conti i passaggi di Mattarello però molte volte ci sono dei giorni in cui il Mattarello lo spingi troppo perché o sei troppo felice oppure sei troppo stanco lì ho capito che la lingua è un termometro assolutamente emotivo di quello che noi vorremmo essere non di quello che noi dobbiamo fare e allora la sfoglia l'ho tirata per due anni e mezzo mentre il libro è stato scritto in 21 giorni quella lingua io l'ho ricercata per due anni e mezzo fin quando ho visto la trasparenza del protagonista e il suo dolore parlando di Eros in questo modo solo in questo modo ho lasciato da parte Roth Henry Miller Anna Isdin e ho fatto Miss Siroli forse c'è anche un fatto ti sei anche questa è l'impressione che ho avuto ho letto tutte le tue cose è come se ti fossi anche un po' liberato dall'esigenza di dover spiegare cosa stessi facendo cioè negli altri romanzi c'è un'esigenza narrativa in questo caso invece c'è un'esigenza interiore che muove le cose e la cosa è più ma stupita che c'è continuamente un correlativo col corpo con gli oggetti con cose che sono tangibili col tangibile cosa che al contrario nei dialoghi che io trovavo ad esempio negli altri romanzi che hai scritto era più nell'evocativo e qui siamo non è nostalgico secondo me il libro è richiama diciamo delle situazioni già vissute ma sempre episodi molto concreti ecco la cosa che ho notato è che è un libro e forse è questo il motivo per cui le persone hanno così apprezzato questo romanzo ho sentito proprio che ogni pagina tu stessi raccontando delle cose molto concrete molto vivibili da chiunque e che chiunque ha sentito cioè se io penso ad esempio al buio addosso io posso capire la distanza delle persone rispetto a quel tipo di dialogato a quel tipo di mondo di riferimento anche il senso dell'elefante in qualche modo non è così centrato in un'esperienza universale com'è quella che proponi di libero sì che poi è uno spazio molto rischioso quello lì e te ne devi fregare ricordo perfettamente quando mio padre lo lesse e disse siamo fregati Fiorella ha fatto il libro ha fatto il libro come davvero cambiamo la serratura e aveva ragione in parte nel senso che la prima versione era ancora più pornografica di quello che è stato poi l'ho limato tanto l'ho lavorato per quel discorso della lingua ma io mi sentivo libero perché quello lì era il discorso quando ero piccolo andavamo al mare al mare andavamo al mare a Rimini io cercavo sempre di arrivare per primo mezz'ora 40 minuti prima perché se noi avevamo l'ombrellone noi ragazzi tutti in fondo e l'ultimo che arrivava veniva guardato dall'inizio siccome io ero magro bianco altissimo un'acciuga portavo questi pantaloncini sandec la gamba mi ballava dentro sembravo mentre i calciatori la riempivano perfettamente i miei amici erano tutti i calciatori io la riempivo come Olivia di braccio di ferro nelle scarpe quella roba lì e quindi mi vergognavo arrivavo molto presto arrivavo prestissimo e ogni mattina prima di andare al mare sai che la gente non ci sta credendo in questo ti vede allora io me ne vado mi uccido sai quante volte lo diciamo sta cosa io ti ascolto e dico io che devo fare capisci è un sentimento comune che c'è comune in questo momento voglio dire è psicanalisi se volete fatemi un applauso c'è ragione in questo caso giusto no ti dovevo fregare perché non è che il povero il povero Marco lo metto qua lo metto alla gogna gli dico del finale a te ti tratto solo bene perché sei bello devi capire che a un certo punto comunque vabbè mi sta parlando una voce che è il mio superio ma io non l'ascolto insomma prima di andare al mare mi guardavo sempre le coste erano sempre 4 e 4 4 e 4 ad un certo punto crescendo visto che le costole erano due che si vedevano e basta e quello mi ha fatto sembrare veramente uno che cresceva allora il corpo e forse per questo il paragone con Pennac storia di un corpo diventa una mappa emotiva una mappa geo emotiva quasi più spostamenti fai più donne consume più donne ti consumano e più tu porti i segni io volevo che questo romanzo fosse un corpo c'è un culo in copertina è così e quel culo in copertina che è un'opera che c'è dentro il libro è quel corpo lì segnato in parte rotondo in parte no che porta i segni delle costole di quello che è stata la mia storia io ho apprezzato una cosa che a un certo punto il libro non diventasse uno scrittore perché poi c'è sempre questa roba a un certo punto cita i libri parla delle cose e quant'altro spero che non ti sia mai venuto in mente ok meno male questa è una cosa importantissima è abbastanza fallito il protagonista se si guarda sotto se non fallito non c'è un punto deve fare lo scritto anche il mio è veramente insopportabile però va a fare la scuola di cinema quindi l'artista vuole diventare non lo sappiamo beh sì dai possiamo dire che non si ripi solo un corpo a corpo visto sì assolutamente io volevo chiedere un'ultima cosa a Marco sul gatto che non c'entra assolutamente nulla come abbiamo detto e poi passare alle letture così poi vi lascio andare a cena questa cosa del gatto vabbè c'è il gatto che ritorna in tutto il romanzo io ovviamente appena vedo un gatto nel romanzo mi si aprono tutte le sinapsi da Lovecraft Barrox il gatto conduttore delle anime e via dicendo in effetti è esattamente così secondo me cioè questo gatto che tu tratti bene tratti male poi a un certo punto tratti molto meglio e questo gatto che scompare che ricompare continuamente ecco questa è una domanda stupida proprio fatta apposta perché voglio capire cioè se tu nella costruzione di questo gatto c'è una volontà di raccontare un personaggio che in qualche modo rappresenti tutto l'escursus che tu fai spirituale praticamente all'interno del libro o se al contrario tu abbia voluto in qualche modo omaggiare anche con questo e completare un percorso di diretto rapporto con quelle che sono le tue fonti letterarie te lo chiedo perché anche l'utilizzo di tutti gli incisi dei vari io e narranti che ci sono sembrano certo funzionali alla storia che stai raccontando ma è come se tu volessi dire grazie a una certa serie di riferimenti non so se questo in maniera conscia o in maniera inconscia però anche questo personaggio del gatto è proprio tipico di un determinato tipo di letteratura se è meglio di me cerco di essere breve così lasciamo spazio alla lettura perché la domanda che mi stai facendo richiederebbe un paio d'ore a me e a Marco a testa perché la domanda che mi hai fatto è a cosa serve la letteratura implicitamente tu mi hai chiesto a cosa serve la letteratura rispondo con un grandissimo scrittore il gatto si Lovecraft i gatti di ultra Edgar Allan Poe tutta quella roba lì c'è senz'altro ma David Foster Wallace prima di diventare David Foster Wallace uno scrittore che ha moltissimo ha fatto una specie di volontariato forse quando era diciottenne in un istituto di riposo lo racconta in un'intervista non so se l'avete letta in questa intervista dice che lui andava in questo istituto di riposo a leggere ai vecchietti la divina commedia tradotta ovviamente che non so che cosa di diavolo fosse ma era divina commedia per gli americani ed erano tutti quanti molto anziani o molto ormai incapaci di trattenere la lucidità in sé e con uno di questi vecchietti il signor mettiamo Jones aveva stretto un'amicizia a Wallace Wallace era uno curioso questo vecchietto gli stava comunicando qualcosa e quindi si fermava qualche ora in più dopo la lettura della divina commedia per chiacchierare con lui che aveva voglia di chiacchierare ed era il più lucido di tutti in apparenza e un giorno Wallace curioso dice senta signor Jones io volevo sapere qualcosa della sua famiglia la conosco soltanto qua da dove è nato da dove viene qual era il suo lavoro voglio sapere di più e allora il signor Jones gli dice ah caro David racconta un po' la rava la fava e a un certo punto dice e la mia famiglia comunque arriva da est dalle montagne rocciose e Wallace che era un piccoliglione di prima categoria gli fa no senta signor Jones va bene ma le montagne rocciose sono ovest no sono est glielo assicuro sono ovest e il signor Jones ha detto senti ragazzo se io faccio così sposto le montagne rocciose dove voglio io e Wallace dice ho capito che a quello serve la letteratura è un po' facile prendersi applausi su Wallace no scherzo io adesso dato che vorreste fare delle domande però come dire per fare le domande poi c'è quel momento un po' liturgico dell'attesa allora noi introduciamo le vostre domande che saranno brevi con una lettura del libro di Marco su una costruzione che hanno fatto Matteo Alfonso e Marta Antonucci che approfitto di ringraziare visto che domani non potrò ringraziare poi devo ringraziare anche Carla Turinetto Elvira Bonfanti Luca Borsani Palazzo Ducale Marco Missiroli e Marco Peano adesso Matteo Alfonso e Marta Antonucci ci leggeranno un pezzo dell'invenzione della madre di Marco Peano grazie Marco Peano l'invenzione della madre rifugiarsi nelle immagini spesso Mattia al lavoro si annoia per fortuna prima o poi la sera arriva e con essa il momento che Mattia preferisce in assoluto poco prima della chiusura accende il televisore più piccolo e il videoregistratore poi recupera da dietro il bancone la borsa a tracolla estrae una delle videocassette che si porta sempre dietro la infila nella bocca dell'apparecchio si siede al buio da solo quando la proiezione inizia Mattia si quieta le immagini che scorrono sullo schermo sono quelle della madre quando era sana riprese che ha fatto lui stesso con la videocamera anni prima immagini rubate a una gita a una festa di compleanno a una cena con i parenti brevi sequenze sgranate inquadrature imprecise fuori fuoco sovraesposte il negozio è un luogo neutro non c'è nulla di legato alla famiglia ai ricordi e questo amplifica la potenza delle immagini che si susseguono nel piccolo televisore così come il riverbero delle voci che arrivano dal passato quel gracchiare indistinto nelle scene in cui il microfono era troppo vicino a chi stava parlando è un balsamo per le orecchie di Mattia ogni tanto si sofferma su un dettaglio contempla il viso della madre come se lei già non esistesse più e lui potesse vederla solo in quelle occasioni come in sogno eppure se volesse vederla basterebbe andare a casa sua di là e la troverebbe malata ma viva un figlio che muore per un genitore è come un film che hai visto dall'inizio e del quale sei certo di sapere tutto un genitore che muore per un figlio è come un film che hai visto da metà e del quale sei certo di ignorare molto quando i dvd sono usurati e i clienti si lamentano che a un certo punto il film si è inceppato e hanno dovuto far ripartire la proiezione o sono stati costretti a saltare alcuni minuti per arrivare alla fine del film il capo anziché restituirli alla ditta che li distribuisce li regala a Mattia al figlio piacerebbe potersi muovere random avanti e indietro nell'ultimo anno in cui la madre è stata accanto a lui attraversarlo seguendo un nuovo intreccio per recuperare i momenti più preziosi e mescolarli ai più terribili dal resto a Mattia certe giornate sembrano dei montaggi fatti ad arte composti da episodi che ha già vissuto il giorno in cui lei ha tentato inutilmente di alzarsi dal letto ed è scoppiata a piangere fu ribonda con se stessa e con il suo corpo ha preso a colpirsi le cosce con i pugni la sera che si è versata addosso la zuppa perché il cucchiaio ne era sfuggito di mano ma anche il giorno in cui lei gli ha chiesto se per favore poteva spostare la tenda davanti alla finestra per vedere bene il giardino fuori la volta che Mattia ha detto che sono e poi ha appoggiato la testa sulle gambe della madre e lei ha preso a carezzargli i capelli cantandogli una ninna nanna la domenica in cui erano tutti a pranzo insieme alla televisione in sottofondo si preparava a commentare le partite di calcio Mattia aveva diviso un budino con la madre mangiando nello stesso piatto ma anche quando lei non voleva prendere una medicina e il figlio inferocito con la madre le ha dato uno schiaffo in faccia e la madre non ha reagito persino i ricordi peggiori quelli di cui Mattia si vergogna sono da salvare inventare per continuare a esistere Mattia fissa il soffitto ascolta il vento che fischia fuori conosce quel suono ha imparato a decifrarne il rumore tra le foglie è il ventre vuoto della madre che cerca la terra di notte le viscere del mondo si spalancano rivelando una porzione di terreno grande esattamente quanto il corpo di lei ma finché madre e figlio riescono a stare barricati lì dentro sono assicuro finché quella notte persiste lasciando tutte le cose addormentate finché la tessera della videoteca il libretto dell'automobile e tante altre cose possiedono il suo nome la morte non potrà arrivare a reclamarli gesti svegliandosi accanto alla madre viva Mattia decise di spogliarsi nudo mancava davvero poco dovevano allertare il comune affinché quelli delle onoranze funebri provvedessero a liberare un loculo nella tomba di famiglia ma ne Mattia nel padre sapevano dove cercare il coraggio il figlio osservava il mondo circostante con sospetto anche il gesto più inoffensivo come cambiare le lenzuola nascondeva un'insidia tutto in quei giorni sembrava avvenire per l'ultima volta l'espressione in quei giorni di solito si usa per indicare due situazioni precise codificate le sacre scritture in quei giorni Gesù se ne andò sul monte e le mestruazioni negli spot in quei giorni voglio sentirmi libera per raccontare il sangue di un uomo unico e quello di tutte le donne si tolse i vestiti con la lentezza di uno sposo e si piazzò di fronte a lei le parlò quel ragazzo di 26 anni parlò a quella donna morente di 54 anni ormai incapace di rispondere davanti a quegli occhi strettamente chiusi disse questa è l'ultima volta che mi vedi così come ero quando sono nato poi si avvicinò e dopo aver sollevato una di quelle mani incoscienti se la portò sulla pancia all'altezza dell'ombelico non avrebbe mai smesso di restituirle ciò che aveva ricevuto miracolosamente o forse per via di uno spasmo gli occhi della madre si mossero e se mi infilo nel letto con te chiese stringendole più forte la mano al che lei biascicò un va bene o qualcosa che il figlio volle interpretare come un assenso con solennità Mattia liberò i ganci che reggevano le sponde di contenimento e si infilò in quel letto stando un po' in bilico e un po' raccolto per non costringerla a spostarsi cosa che le sarebbe risultata impossibile sotto le coperte nudo si addormentò io volevo solo lasciarvi lo spazio per le domande se avete qualche domanda da fare io finisco i ringraziamenti che prima ne ho fatti in metà adesso faccio l'altra metà di ringraziamenti bisogna dividere è giusto perché altrimenti poi diventa noioso quindi adesso ringrazio tutta quella parte che mi ha seguito diciamo dal punto di vista più social quindi ringrazio principalmente Francesca Marson che mi ha seguito per Nuvole d'Inchiostro Maria Anna che mi ha seguito per Casa Lettori e ha seguito tutto il festival e tutti gli incontri che ci sono stati se avete qualche domanda da fare questo è il momento se volete chiedere qualcosa di più personale a Marco Peano e a Marco Missiroli se sono qua se volete comprare i libri uscite fuori c'è la libreria l'amico ritrovato che ci sta supportando per il festival grazie a tutti a Michele Vaccari bravo Michele sì 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 grazie a tutti la madre di inizia grazie a tutti 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 grazie a tutti